Musica Uè bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video Io sono Xyuder e oggi ragazzi abbiamo davvero un sacco di novità e di aggiornamenti riguardo il nostro Fortnite Come sapete ragazzi ieri è arrivata la patch 7.1 che ha portato un bel po' di miglioramenti Alcuni anche passati un po' inosservati ma oggi ovviamente ve li dirò tutti Mi sto raffreddando ragazzi mi dispiace per la voce che è più rauca del solito Non mancheremo raga di parlare di quello che succede anche al di fuori di Fortnite Con una causa legale che è stata intentata una nuova causa legale contro Fortnite Oramai tutti quelli che hanno un minimo di possibilità di potersi portare a casa del grano facile Lo fanno e ragazzi vedremo dei leaks incredibili Vi faccio uno spoilerino delle nuove skin per le armi E che skin ragazzi quindi mi raccomando un bel pollicione in su se ancora non lo avete fatto Iscrivetevi al canale raga daie e soprattutto Attivate la campanella per non perdere nessun aggiornamento e nessun video di Fortnite Ma prima ragazzi non mi fate fermare perché ho da farvi la domanda ragazzi Una domanda semplicissima Ieri abbiamo visto l'altro ieri abbiamo visto come abbiano messo nelle notizie per un breve periodo di tempo Il nuovo driftboard e la domanda è ragazzi cosa ne pensate di questo nuovo Chiamiamolo veicolo che potrebbe arrivare prestissimo su Fortnite Secondo voi è una cosa giusta è intelligente non serve serve Fatemi sapere ragazzi qua sotto nei commenti ovviamente tutte le vostre idee che io sono curioso di leggervi Quindi ragazzi bando alle ciance ciancio alle bande cominciamo subito Rimaniamo però a tema ragazzi del nuovo driftboard Lo abbiamo visto per un brevissimo periodo di tempo un'oretta e mezza al massimo Pronto ho fatto il tempo a mandarci su il video e poi è stato addirittura eliminato dalla sezione notizie Perché è stato tolto il driftboard dalla sezione notizie? Molto molto semplice ragazzi abbiamo direttamente un messaggio di Epic Games che dice Noi vogliamo che la tua esperienza con il nuovo driftboard sia la migliore possibile Quindi il nostro obiettivo è quello di garantire una perfezione in quello che mettiamo Ed evitare che ci siano bug strani qua già mi faceva ridere dalla seconda riga Comunque ragazzi miglioreranno l'aspetto grafico del driftboard Miglioreranno la giocabilità del driftboard e quindi non sarà disponibile Almeno questo è quello che ho come aggiornamento ad oggi che sto registrando Perlomeno per i prossimi giorni ancora non lo troveremo Comunque ragazzi siamo fiduciosi che arriverà presto prestissimo E allora ragazzi passiamo subito al secondo argomento Argomento davvero interessante e curioso che sicuramente vale la pena di citare Forse la ricordate tutti ragazzi La L'Emote Fresh Una delle Mote più vecchie se devo dire la mia di Fortnite ragazzi Quando c'è lui praticamente che balla così Ma adesso avremo tempo di vederla Non preoccupatevi dovete sapere quello che c'è dietro L'Emote Fresh Non è un ballo ragazzi che è stato inventato da zero da Epic Games Allora quando Fortnite non era così famoso Diciamo che avendo l'introduzione dei balletti Epic Games non si preoccupò di farne alcuni di nuovi Quindi partendo da zero e quindi detenendo i diritti sui propri balli Ma si appoggiò ai balli più famosi della televisione e del cinema In modo da trasportarli sul suo videogioco Non rendendosi conto in realtà di quello che sarebbe potuto accadere Qualora il gioco fosse diventato famoso E io vi faccio vedere una locandina ragazzi Questo per i più grandi è stata la nostra infanzia È il telefilm Il Principe di Bel Air Will Il Principe di Bel Air Come vedete ragazzi un giovanissimo Will Smith Che faceva il protagonista in Bel Air appunto E faceva la vita da ricco anche se non era ricco E come si dice come vedete sullo sfondo c'è tutto il cast A noi interessa l'omino più a destra ragazzi Quello giovane che sarebbe il suo fratellastro se non ricordo male O il suo cugino Quel tizio là che è un attore Tuttora è un attore Vi faccio vedere che cosa faceva ragazzi Durante Ho sbagliato a cliccare Vi faccio vedere ragazzi che cosa faceva Durante le puntate del Principe di Bel Air Questo è lui Ovviamente tanti anni dopo Ma spesso e volentieri Durante le puntate Utilizzava questo balletto che lui stesso aveva creato E che come vedete è ovviamente il balletto fresh Che abbiamo tutti ben presente sul nostro Fortnite Questo signore ragazzi ovviamente Avendo fiutato l'affare E capendo quanto poteva portarci a casa Ha deciso di intentare una causa legale contro Epic Games Sapete che Epic Games ha già in attivo la causa legale Con il rapper che aveva fatto il ballo Quello tutto L'avete visto in uno dei miei vecchi video Insomma ragazzi sicuramente È meglio Sarà meglio per Epic Games Dargli dei soldi Piuttosto che andare avanti E probabilmente come già dicevo Quando si trova il modo di fare soldi facili Chi si tirerebbe indietro Quindi ragazzi ovviamente Se ci sarà qualche novità Ve la dirò ancora più avanti Ma andiamo avanti raga E parliamo di roba super super interessante Sto parlando delle nuove skin per le armi E ovviamente per i veicoli Le hanno trovate i dataminer ragazzi Pront Questa è la prima ragazzi Si chiama Spectrum Si chiama quindi una skin Che va proprio a riprendere tutti i colori Dell'arcobaleno Veramente bellissima Staremo a vedere poi come resterà Sulle armi Ma secondo me è tanta tanta roba Non è l'unica ragazzi Ne hanno trovata un'altra Che si chiama Electronic Gradient Quindi come vedete Parte dal nero Arriva al bianco Passando per tutte le tonalità di blu Bisognerà vedere ragazzi Ci sono delle voci Che stanno un po' girando Sui forum di Fortnite Su Reddit Non ve le ho ancora dette Perché voglio capire Se è vero Se sono minchiate Però Sembrerebbe Che possano arrivare Prestissimo Delle skin Per le armi Reattive Non sappiamo in che modo Non sappiamo come Ma voi prendetela Con le pinze ragazzi Andiamo avanti E ce n'è un'altra Molto molto Particolare Il Disco Files Vedi questa Potrebbe essere O reattiva Ad esempio O comunque Animata Ci saranno magari Delle luci Che si accendono Come abbiamo già visto Nelle nostre pedane Della discoteca E proseguiamo Con un'altra Skin Super super interessante Si chiama Stone Normal Adesso la domanda è Non sono sicuro Ragazzi Che i colori Siano proprio questi Sapete che quando Vediamo i leaks Di solito I colori non sono fedeli All'originale Però È veramente Meravigliosa Anche questa E chiudiamo ragazzi Con la Lighting Drift Vedete anche questa Sicuramente Sarà animata Potrebbero passare Lighting Vuol dire Fulmine Potrebbero passare Dei fulmini Intorno alle armi Intorno ai veicoli E dare un effetto Molto molto Più animato E fighissimo Chiudiamo ragazzi Con l'ultimo Argomento Volevo solo Confermarvi Che sono Stati Trovati Da poche ore Tutti I backpack Delle skin Che abbiamo Già visto Nei nostri video Precedenti Relative Allo stile Invernale Quindi Il cavaliere Il raven E il cupido Abbiamo visto ragazzi Come le skin Erano presenti Ma non era presente Ad esempio La testa Del love ranger E non avevamo Trovato Abbiamo trovato Solo Dei file Che richiamavano No ragazzi Sono stati Confermati Sono stati trovati Ma non ancora Pubblicati Dai leakers Tutti E tre I backpack Quindi ragazzi Staremo ovviamente A vedere Quello che Ci dovremmo aspettare Nei prossimi giorni Di Fortnite Con queste tre skin Che stanno facendo Il giro Dei leaks Io ragazzi Vi ringrazio Tantissimo Per avere guardato Questo video Mi raccomando Un bel pollicione In su Se ancora Non lo avete fatto Iscrivetevi In tantissimi Al canale E noi Ci vediamo presto Ciao Ciao